Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà una parziale rimonta della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali mentre ancora il medio adriatico e il sud sentiranno l'influenza di correnti più fredde in arrivo dall'est Europa. In effetti se controlliamo la nuvolosità vediamo che tornano ampie schiarite sulle regioni settentrionali a iniziare da quelle di nord-ovest e graduale miglioramento anche sul medio alto-tirene e sulle isle maggiori. Invece sul medio adriatico al sud è situazione molto variabile, ci riaccorgiamo anche dalle precipitazioni previste sull'Italia a inizio giornata ancora qualche piovasco all'estremo nord-est e sul medio adriatico ma più che altro poi le piogge si concentreranno tra Abruzzo-Molise e le regioni meridionali. Saranno acquazioni di passaggio, nulla di eccezionale però porteranno anche un lieve calo delle temperature. In definitiva ci attende quindi un lunedì con un netto miglioramento al nord, dicevamo a cominciare dal nord-ovest comincia a migliorare anche sul medio alto-tireno, tempo buono sulle isole maggiori invece qualche acquazzone sul medio adriatico nelle regioni meridionali in queste zone calo termico di 2 o 3 gradi. Con questo è tutto ma per i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.